20 secondi bravi 10, metti la prima 5, 4, 3, 2, 1 dai, sinistra 4 dentro per piega destra, lascia, vai, 100 ritarda lo zip destra, 2 anticipare la staccata, eh lascia subito tanta sale ritarda poco, sinistra 4 ritarda poco, eh 50 destra 2, tieni 2 per sinistra 4 vai, 2 tempi chiude, è il secondo 50 stai a destra inizio rail, frena sinistra 4, salta 80 sconnessi destra 4, 2 tempi chiude occhio qua, eh, che chiude in frena sinistra 5, salta e barriera destra 2 subito invenzione sinistra tieni a su 200 stai destra ritarda inizio muro sinistra 4 scivola scivola, eh per destra 600 chicane entri a destra entri a destra all'intermedio meglio di 1 rispetto a prima su, su, su via destra 6 vai 70 al video destra sinistra 2 frena barriera destra 1 aspetta ritarda lo specchio destra 2 2 eh 70 sinistri destra anticipa sinistra 5 vai per ritarda bene destra 4 meno meno per ritarda poco sinistra 4 in zip destra 4 meno tieni per sinistra 5 tieni vai e l'altro zip destra 4 scivola lascia scivola subito sinistra 5 vai tieni subito destra 5 corta in sinistra 6 lunga zip chiude 4 chiude 4 in destra 6 in sinistra 5 vai al zip attenzione destra 3 scivola in anticipa a sinistra 4 vai e dentro a 5 vai a 5 a 5 1 2 1 2 2 3